...decidesse che non serviva niente. No, ma allora niente, bisogna spessare qualsiasi. Guarda che ho anche degli altri coppi di dentro. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, ma mi guardi solo se l'aggucco davanti sta lampeggiando rossa? Sì, sì, sì. Sì, sì, sta lampeggiando rossa. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì.